Allora vi devo dire che Salvini ha detto alcune bugie che chiaramente fanno parte della politica quindi si possono raccontare che poi si va a fare la prova, non funziona così. Allora per dirvele una, quelli di Messina che fanno i pendolari per andare a Reggio Calabria o a Villa San Giovanni. Allora voi dovete pensare che da Messina centro per andare a prendere il ponte bisognerà percorrere tutta una strada che vi porterà al raccordo perché non dovete pensare, il ponte è alto quasi 200 e passa metri, quindi non dovete pensare che si fa una rampa e si sale sul ponte, bisogna andare indietro e percorrere almeno una decina di chilometri ma la strada sarà sempre molto trafficata e la stessa cosa andrà dall'altra parte. I pendolari non lo prenderanno mai anche perché ha un costo, ha un costo, il ponte costerà una barca di soldi tant'è vero che loro hanno detto vedrete si ripaga da solo. Come, vi faccio un esempio, a Istanbul allora con i tre ponti che hanno fatto hanno tolto i traghetti, no! Quelli continuano sempre perché il traffico del pendolare andrà sempre con i traghetti che alla fine in 20-25 minuti ci portano. Il problema è in quei momenti di grande confusione quando c'è Pasqua e c'è Natale. Allora, cosa dicono? A Messina stanno organizzando addirittura anche un movimento particolare su questo. Allora, cosa dice qui? Di organizzare un enorme parco siciliano, no? È una priorità sbagliata. Vi presento la proposta per il parco nazionale dello stretto. Anche perché lo stretto ha un'immagine straordinaria. Io per la mia vita sono nato in Calabria, quindi questo traghetto l'ho fatto decine, centinaia di volte. Io rimango impressionato quando vedo venendo dalla Calabria quelle immagini, o anche venendo dalla Sicilia. Insomma, sono delle immagini. Il ponte, certo, sarà un colpo d'occhio, bello per i grandi appassionati delle grandi opere, ma sarà certamente deturpante. Però, dicono, l'istituzione di un grande porco è un porco. Parco? Allora, vorremmo fare un parco, un parco verde, in cui ci sono posti bellissimi allo stretto, le fiumare, i laghi di Gazzilli, ci sono i paesaggi terrestri. Quest'area potrebbe diventare un parco di esigenza, di tutela e di sviluppo realmente sostenibile. E poi, ne stanno parlando anche i consigli comunali di Palmi, Reggio Calabria, Bagnara, e potrebbe, ecco, migliorare anche il trasporto marittimo, per esempio, con più traghetti, più ecologici, per esempio, traghetti che vanno a energia elettrica, traghetti che vanno ad altro tipo di energia, e sarebbe addirittura anche meno inquinante. Ma poi il punto principale è questo. Dopo che mi hai fatto il ponte sullo stretto, vedete, vedete come fa il raccordo? Pensate come si deve poi arrivare da Messina ad un raccordo del genere. Capite? Perché bisogna arrivarci là sopra. E infine, stavo dicendo, ma a noi, la Ragusa Catania, le ferrovie che vanno da Siracusa a Ragusa, da Ragusa a Palermo, il tratto autostradale da Grigento a, come si chiama, a Palermo, l'autostrada, la Siracusa Gela, che si ferma a Modica se ce le inaugurano giorno 7, ma queste cose, chi cazzarola le farà mai? Non le farà mai nessuno! Quindi, anche ammesso che fra dieci anni riusciremo ad avere il ponte, avremo il ponte, ma non avremo nient'altro, anche perché abbiamo capito che tutte le cose dette da Salvini e la trasmissione report di domenica sono in buona parte delle bugie. Certe cose già ci sono, ma abbiamo problemi addirittura a completarle. E su questo andiamo proprio a fare un piccolo cenno. Chi sta davvero lavorando a non finire dalle nostre parti è questa società, la WeBuild, che, guardate, è un colosso straordinario. Solo quest'anno ha preso 67 miliardi di commesse e sta lavorando in tutto il mondo, dall'Australia all'Indonesia e non ha considerato ancora il ponte. Guardate, se voi andate a vedere sul sito della WeBuild, troverete anche uno spazio dedicato al ponte di Messina dove ci sono espresse delle criticità, come per esempio il vento, ci abbiamo studiato o non sarà una cosa divertente quando c'è vento sullo stretto di Messina. Quindi io su questo sarei continuato ad essere abbastanza preoccupato. Allora, vi faccio vedere un minuto e mezzo sempre dal press cosa fa la WeBuild perché almeno su questo dobbiamo dire che ci possiamo affidare a una società di un certo livello. Vediamo.